La realizzazione di una rete oncologica romagnola è una realtà sempre più vicina. La Conferenza Territoriale, Sociale e Sanitaria, che raggruppa i 73 sindaci dell'area vasta, ha approvato il documento che ha raccolto il parere favorevole di tutti i primi cittadini, ad eccezione di Gianluca Zattini, sindaco di Meldola. Il riordino sembra dunque essere condiviso e si procederà alla messa in comune delle piattaforme cliniche di ricerca e di assistenza, creando percorsi condivisi e di collaborazione tra i professionisti, garantendo pari opportunità e servizi ai pazienti. Un punto unico di riferimento che unisca Ausl Romagna e Irst di Meldola e che sarà in grado di garantire tutti i presidi un livello di cure avanzate. Ravenna sarà uno degli hub principali dell'offerta oncoematologica. L'Ausl Romagna e l'Irst di Meldola definiranno gli obiettivi operativi, i percorsi e i progetti di ogni struttura. Dovrà essere individuata la persona che assumerà la funzione di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'assistenza. La stessa conferenza territoriale ha poi stabilito di dare vita ad un tavolo di monitoraggio sulle politiche della rete romagnola e nel mese di maggio ci sarà una prima valutazione dell'attività.